C'è sicuramente da compiacersi che questa amministrazione abbia quasi il culto della memoria, perché la memoria rispetto al fare cultura rappresenta l'elemento assolutamente imprescindibile, cosicché noi oggi ricordiamo il crimine più orrendo compiuto contro l'umanità. La storia ci ammonisce anche ad avere attenzione a chi ha provocato tutto questo. Non possiamo dimenticare che l'Italia nel 1938 è stata la prima a fare le leggi contro gli ebrei. Addirittura Hitler disse che lui aveva appreso molto da quello che era avvenuto in Italia. Allora è storia nostra ed è memoria personale di ciascun essere umano. La memoria è importante in tutti i sensi, sia quella del male sia quella del bene. E soprattutto è importante in questi giorni, in questa epoca che stiamo vivendo di una barbarie umana, di una caduta dei valori dell'umanità, è importantissimo ricordare il bene che è stato fatto e che viene fatto. Il bene ci può salvare, l'amore per il prossimo ci può salvare, solo questo ci può salvare. Quindi ricordare il bene che è stato fatto, perché se io non fosse stato bene da parte di chi ha salvato la mia famiglia, io non sarei qui a parlare. Non un solo giorno della memoria, ma un intero calendario di iniziative è ciò che offre il Comune di Napoli al ricordo dell'Olocausto. Contro ogni persecuzione e discriminazione di razza, religione, credo politico, orientamento culturale, filosofico e sessuale, in collaborazione con numerose associazioni, incontri pubblici e celebrazioni ufficiali, cui parteciperanno le massime istituzioni della città, con mostre, rappresentazioni e proiezioni che coinvolgeranno anche moltissime scuole. A Napoli, per fortuna, non possiamo contenere tutte le iniziative e tutte le testimonianze, tutti gli incontri in un solo giorno, il giorno della memoria che è consacrato al ricordo della Shoah. Avevamo quindi bisogno di più giornate, il Comune perciò organizza i giorni della memoria e raccoglie una grande partecipazione di artisti, associazioni, mondo della scuola, semplici cittadini che raccolgono il monito di Primo Levi, che ci ricordava che il razzismo, il nazifascismo è un cancro che prolifera rapidamente e perciò è necessario opporsi fin da subito, fin dall'inizio e in un momento in cui avvertiamo che il razzismo sembra di nuovo diffondersi così arrogantemente e drammaticamente, noi siamo una città che vuole opporsi fin dall'inizio. E poi vorrei invitare tutti il 27 mattina alla cerimonia in cui ricordiamo Luciana Pacifici, la bambina di poco più di un anno, la vittima più giovane delle leggi razziali e dello sterminio degli ebrei della nostra città, la nostra piccolissima che appunto all'alba della vita per questo mostro orrendo non ha potuto più viverla.